Si sta parlando moltissimo della vicenda Madame, la cantautrice, cantantessa, artista, brava, non brava, decidete voi, indagata per falso ideologico. Secondo l'accusa avrebbe ottenuto un green pass senza averne il diritto perché non si è mai vaccinata. Se ne è discusso per giorni, se ne è parlato per giorni senza che Madame prendesse posizione o ammettesse o non ammettesse, comunque non aveva aperto bocca nella sua vicenda in materia e parallelamente molti hanno chiesto ad Amadeus, direttore artistico del prossimo imminente Festival di Sanremo di cui Madame fa parte, a cui Madame dovrebbe partecipare come big, di cancellare la stessa Madame perché, secondo questa tesi, Madame in quanto indagata per falso ideologico, cioè per avere finto, secondo l'accusa, di essersi vaccinata per ottenere il green pass, non avrebbe il diritto morale, a prescindere da valutazioni giuridiche e dall'esito giuridico del processo, eventuale processo, non avrebbe diritto a partecipare al Festival di Sanremo. Ora, ieri o due giorni fa, Madame ha risposto, in parte, dando la sua versione dei fatti, scrivendo un post molto lungo, molto alambicato, complicato, stralunato, dando la colpa sostanzialmente ai genitori, cioè dicendo io vengo, la traduco male, ma non è che sto traducendo la Divina Commedia, quindi credo che lo si possa fare. Madame scrive sui suoi profili social, io vengo da una famiglia che non ha mai creduto ai vaccini, mi sono sempre fidata di loro, non mi sono posta il problema sostanzialmente durante il Covid, quindi incidentalmente dice non mi sono vaccinata, questa vicenda, quando ho saputo di essere indagata, diciamo che questa vicenda mi ha aperto gli occhi, quindi esorto tutti voi a riflettere sull'importanza dei vaccini. Questo è più o meno quello che ha scritto, purtroppo, mettendoci molto più tempo di quello che io ho impiegato per tradurre il suo pensiero. Ora, lasciamo stare implicazioni artistiche. Diciamo che per alcuni, molti, pochi, non lo so, Madame è brava, per me no. Per molti, pochi, tanti, Madame è una brava cantautrice, per me no. Ma questa è una valutazione personale, soggettiva. Io non sono nessuno per decidere chi sia artista o meno, o meglio, io sono tantissimo per farlo, perché di musica ne capisco, ma ne capiscono anche molti che ritengono che Madame sia veramente brava. Quindi siamo sul fronte della soggettività. D'altra parte, ragazzi, c'è anche gente che non ama i Pink Floyd, o gente che non ama Joyce, figuriamoci se non possiamo dividerci su tale Madame. Quindi Madame, da un punto di vista di arte vera o presunta, ha tutti i requisiti per andare a Sanremo, dove, peraltro, spesso meno sei brava o bravo, e meglio è per emergere a Sanremo. Quindi non mi interessa onestamente la vicenda Sanremo sì, Sanremo no. Deciderà Amadeus, non me ne può fregare di meno. Comunque decida, io avrò rispetto tanto di Madame quanto di Amadeus. Non mi interessa la vicenda Sanremo, come avete notato quasi mai ne scrivo, sebbene una volta abbiamo anche fatto parte della giuria di qualità nel 2018, per volere di Claudio Baglioni, che ringrazio ancora. Quello che mi preme sottolineare è un altro aspetto, perché su questo si svolazza e non si analizza troppo bene la vicenda. E la stessa Madame non dà risposta su questo aspetto, su questo argomento. Madame dice è colpa dei miei genitori. E già fa ridere, perché ha vent'anni o giù di lì l'età che ha Madame, diciamo che una tua idea sui vaccini e non solo sui vaccini la dovresti avere. Uscire o cercare di uscire da questa impasse, sia giuridica sia mediatica. Dando la colpa ai genitori Novax, o scettici, o complottisti, o come sono questi genitori di Madame, fa un po' ridere, perché sei maggiorenne, sei adulta e non vaccinata, prenditi la responsabilità delle tue scelte, giuste o sbagliate che siano. Avresti fatto probabilmente migliore figura se tu avessi assunto piena responsabilità del tuo agire, cara Madame. Ma l'elemento che io trovo più importante è l'aspetto giuridico, cioè lasciando stare che sia o meno innocente o che sia o meno colpevole. Il punto della vicenda, cara Madame e cari difensori a oltranza di Madame, non è che lei debba o meno vaccinarsi, perché questo non lo dice nessuno. È furba la dialettica di coloro che difendono Madame dicendo se non si può vaccinare non si vaccina. Certo, certo, però te ne assumi la responsabilità. Lo dici e soprattutto ti assumi anche gli effetti negativi della tua decisione, cioè rispetti le regole. Vi faccio un esempio. Diokovic. Io un anno fa, quando Diokovic è diventato il baluardo dei Novax e l'ho attaccato ferocemente, lo rifarei, lo rifarò, ma al tempo stesso ho apprezzato il coraggio di Diokovic che ha avuto addirittura la forza, la supponenza, l'incoscienza, la coerenza sicuramente di rinunciare a un torneo che avrebbe vinto, perché era lo strafavorito degli Australian Open, dove ha vinto miliardi di volte e secondo me è favorito anche l'imminente Australian Open 2023, ma addirittura, ogni volta che parlo di Diokovic mi entra qualcosa nell'occhio perché sono i suoi accidenti, ma addirittura Diokovic ha rinunciato, pur di essere coerente, pur di non vaccinarsi, alla partecipazione di uno slam, seppure fatto qualche giorno di pseudogalera in una stanza di albergo, che era più una stanza di caserma, più una stanza di prigione che una stanza d'albergo, e poi è stato ricacciato a pedate dall'Australia. Quindi Diokovic ha fatto quello che non ha fatto o non avrebbe fatto stando all'accusa madame. L'accusa, ed è questo il tema di rimente che mi dà fastidio della vicenda, non è madame brava o no, non è madame si vaccinata o no, è una sua scelta, ci mancherebbe altro, siamo in democrazia, ma è l'accusa che le viene fatta, è un reato giuridico, cioè io non mi vaccino, però voglio avere tutti i diritti di chi si è vaccinato, quindi ottengo il Green Pass senza averne il diritto. È questo che non mi piace. Sempre ammesso che l'accusa sia confermata. Diciamo che il post di madame sui suoi profili social non fuga i dubbi, non dice sì ho preso il Green Pass anche se non ne avevo diritto, ma al tempo stesso non dice neanche assolutamente no, è falso, non mi sono vaccinata perché ho i genitori Novax, però non ho voluto il Green Pass. Questo non lo dice madame. Allora è questo il tema. E se fossero confermate le accuse, se cioè, come sembra dagli inquirenti, madame non solo non si è vaccinata, come Diokovic e tanti altri, ma ha ottenuto in maniera illegittima, illegale, il Green Pass, beh allora è un reato. E allora che venga o no ammessa a Sanremo non me ne frega niente, ripeto, però il tema c'è. Da un punto di vista etico e morale è legittimo e sacrosanto non vaccinarsi perché se non ci credi non ci credi, ma è pessimo o sarebbe pessimo ottenere il Green Pass avendo fatto finta grazie a un medico compiacente di essersi vaccinata per ottenere il Green Pass. È questo il tema. Non mi prendete per il culo con il fatto che lei non si è vaccinata, aveva il diritto. Certo, ma l'accusa non è non ti sei vaccinata. L'accusa, ed è indagata, quindi c'è un'ipotesi di reato, non siamo a un'indagine senza né indagati né reati. Siamo a un'indagine dove ci sono degli indagati. L'indagine e l'accusa dicono che questa madame cantautrice, artista, avrebbe fatto finta di vaccinarsi o comunque avrebbe ottenuto un Green Pass senza averne requisiti. Questo mi darebbe fastidio, intendiamoci. Vivrei lo stesso serenamente e non per questo la mia vita subirebbe dei sensibili cambiamenti in meglio o in peggio. Ma è questo il tema. Vi faccio un altro esempio. Io che amo il tennis. Immagino molti di voi. Una delle accusate è anche Camila Giorgi. Camila Giorgi anche lei avrebbe ottenuto il Green Pass senza averne diritto. Attenti ragazzi, perché Camila Giorgi facendo quella cosa lì, se l'ha fatta, poi vedremo se l'ha fatta, ma se avesse fatto quella cosa lì avrebbe tolto un posto per ogni torneo a giocatrici che avevano i requisiti per fare quel torneo e che non sono entrati in tabellone per colpa di Camila Giorgi che avrebbe dovuto non partecipare a quei tornei come Djokovic. Quindi sarebbe un reato e sarebbe anche un atteggiamento profondamente antietico e antisportivo. Se vogliamo dare importanza al festival di San Remo, se questa accusa fosse confermata, dubito che Amadeus l'avrebbe fatta entrare 3-4 mesi nella selezione dei big e quindi anche Madame avrebbe in questo caso rubato un posto a un altro big e allora si porrebbe anche il problema di San Remo. Non me ne frega niente, ripeto, però il tema dirimente non è vaccinarsi o meno. Io preferisco vaccinarsi perché io credo nei vaccini, altri no, chi se ne frega. Sono pieno di insulti e minacce per i Novax e quando arrivano spesso sono anche contento così. Mi rifaccio la quinta, la sesta, la settima moto. Giusto poche ore fa mi sono beccato varie migliaia di euro da uno dei tanti insultatori che avevo correlato, quindi figuriamoci, se c'è qualcuno così imbecille da augurarmi la morte o simili perché io sono per i vaccini e loro no, fate pure, vuol dire che avete in tasca 20, 30, 40 mila euro ogni volta da regalare al primo scansi scemo che passa. Non mi interessa la scelta si no vax, si vax e no vax. Mi interessa questa risposta, Madame. Non fare, perdonami, tanto tu sei giovane, io un po' meno non ti scandalizzi per una parola. Non fare la paracula, non fare questo post strappalacrime o una strappastoria lacrime come diceva Marcio Capatonda in cui dici e non dici, dai la colpa ai genitori ma non dai risposte. Dici sinceramente se hai avuto il Green Pass o hai ottenuto il Green Pass senza averne i requisiti perché questo sarebbe un reato. Poi saranno i giudici a decidere quanto e se dovrei prendere delle condanne, però sarebbe importante da sapere da un punto di vista etico. E ai tanti colleghi e colleghe che continuano a menare il camperlaia dicendo sì però Madame è brava, sì però non ha fatto niente, il punto è questo. Non se è bravo o non è brava, non se sia no vax si vax. È il punto semplicemente questo. Hai ottenuto o meno il Green Pass senza averne i requisiti perché se così fosse sarebbe un reato parecchio ma parecchio sgradevole.